io sono commosso sì perché sono commosso leggi antonio ti amo e quindi faccio un appello chiunque tu sia sia chiunque tu sia alla maria non può essere perché non arriva fico non arriva a fare cose così eclatanti quindi tu spassimante fatti vedere fatti vedere palessati palessati dimmi come direbbe bollello e bisogno nel senso che poi posso scrivere anch'io sotto no una risposta una risposta anch'io questo è il segno hanno fatto quando si vede assai si vedono le vedi rivedi murale stino metamorfosi la metamorfosi il fatto è che c'è proprio la linea di convino fra la metamorfosi quella positiva e invece la bando dove la metamorfosi non è ancora arrivata la metamorfosi e quindi noi veramente siamo commossi tiene un po geloso perché hai scritto solo antonio non c'è antonio e tino pazienti no lo sai il mio fascino mi precede latrino ma tu me le servi sul piatto d'argento quindi a chiunque abbia scritto antonio ti amo ti prego dammi la possibilità di risponderti a tono perché ti risponderò a tono rispetto all'inciviltà che si continua a perpetrare mentre dall'altro lato c'è metamore c'è metamore metamorfosi un problema è l'altra metà è l'altra metà non morfosi